Non è certo la prima volta che in questa città viene compiuto un atto di violenza. Tutto parla di delitto passionale. È stata violentata? No. Beh, allora ci stava, visto che non c'è stupro. Non è certo la prima volta che di un brutale assassino si cancellano le tracce. La vittima conosceva l'assassino! Questo caso è chiuso. E non sarebbe la prima volta che una potente famiglia vi fosse implicata. Questa gente può eliminarci tutti. Ma è certo la prima volta che accade qui. È successo dentro la Casa Bianca. Grazie per la visione.